Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare l'ultima sfida di Aquaman, ossia quella di conquistare il tridente, ossia di recuperare appunto il tridente di Aquaman. Questa è l'ultima sfida, una volta che l'avrete completata potrete sbloccare finalmente la skin di Aquaman. Tutto quello che dovete fare praticamente è atterrare qui dove c'è il tridente di Aquaman, vedete, qui. Vi mostro la posizione, questa isolina piccolina che si trova qui su sabbie sudate, dove c'è anche lo squalo. Dovete atterrare qui praticamente e interagire con il tridente. Vedete, ci sono tutti i giocatori qui a cercare di sbloccare la skin di Aquaman, quindi dovete interagire con il tridente e il gioco è fatto.